Una bellezza unica che si integra perfettamente con la complessità delle forme e delle figure che l'arricchiscono. Un inno di lode alla Sacra Famiglia di Nazareth, ispirato da una fede solida e plasmata dal genio dell'architetto catalano Antonio Gaudì. La basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona ancora non è compiuta, come per le grandi cattedrali medievali. Per vedere la conclusione di questo grandioso progetto occorrono decenni di lavoro. Si parla del 2026, 134 anni dopo la posa della prima pietra. Ogni giorno numerose squadre di operai lavorano incessantemente a decine di metri d'altezza per porre le enormi pietre che formano le guglie e le torri di questo capolavoro. Il 2 luglio è stato aggiunto un importante tassello. A 30 metri d'altezza è stata elevata la Croce Gloriosa, in granito alta 7,5 metri, larga 4 e del peso di 18 tonnellate, disegnata dallo stesso Gaudì nel 1892. La Croce è stata apposta sopra il portico dedicato alla Passione. Le immagini rendono bene la maestosità di questi lavori e la complessità della cattedrale voluta da Gaudì. Ieri poi è iniziata l'installazione di tre angeli adoranti, due ai lati della Croce, uno in atto di adorazione, un altro nel gesto di accarezzare la Croce e un terzo alla sua base, raffigurato in ginocchio sollevando un calice con il sangue di Cristo.